Musica Benvenuti al concetto appuntamento con l'informazione su ReTV Oggi un'ampia pagina di cronaca in apertura con l'arresto del capo dei Caratelli avvenuto a Pistoia Tra breve vedremo anche il servizio della conferenza stampa tenuta stamattina Ma intanto occupiamoci di una rapina ad un passante Episodio abbastanza grave avvenuto ad ACI Sant'Antonio sulla quale ci relaziona Salvo Couture Approfittando della bella giornata di sola si era concesso una passeggiata a piedi in Viano Cilla Periferia a nord di ACI Sant'Antonio nel Catanese Quando è stato affiancato da un'auto con tre uomini a bordo di cui un armato di pistola Che gli ha intimato di consegnargli il portafoglio e il telefono cellulare La disavventura è capitata ad un uomo di mezz'età di cui non sono state rese note le generalità Residente poco distante dal luogo dove è stata consumata la rapina e i suoi danni La vittima, tonita per l'accaduto, è riuscita a raggiungere un negozio poco distante E a lanciare l'allarme a 112 I carabinieri della locale stazione hanno raccolto la deposizione dell'uomo che ha ricostruito i fatti Spiegando di essere stato rapinato del telefono cellulare e del portafogli Contenente 50 euro in contanti e documenti personali L'uomo non ha saputo poi fornire altri dettagli agli investigatori sul modello di auto utilizzato dai banditi E la descrizione fisica degli occupanti del mezzo La visione dell'immagine estratta dal sistema di videosorveglianza Recuperata dai carabinieri da un'attività commerciale della zona Una delle poche presenti in questa isolata arteria stradale Che collega il centro con la periferia Potrebbe aiutare gli inquirenti a dare un nome e un volto ai rapinatori Che hanno agito nella certezza di non essere visti Un colpo isolato per i militari dell'arma che hanno abbattuto a lungo la zona Alla ricerca dei malviventi abili a dileguarsi Dalla visione del video di sorveglianza sarebbero emersi alcuni frame In cui si vede parzialmente l'auto utilizzata dai criminali Per portare a segno il colpo dal magro bottino Che sta addestando preoccupazione tra i residenti di Via Nocilla E adesso come dicevamo occupiamoci dell'arresto del capo dei Caratelli Avvenuto a Pistoia Stamattina tutti i particolari evidenziati in una conferenza stampa Seguita per noi da Sara Rinaudi Uscire in Malcone al secondo piano di questo palazzo Per accendere il barbecue L'ultima cosa che ha fatto da latitante Erano già lì gli uomini della catturante e della mobile Pronti a fare eruzione dopo aver riconosciuto anche la moglie E così finito di nuovo in carcere ieri pomeriggio Concetto Bonaccorsi Pericolosissimo capo dei karate di Frangio Del can cappello di Cattania I poliziotti della squadra mobile Sono andati da ciuffarlo nel covo Qui in questo piccolo centro della Toscana Una frazione in provincia di Pistoia Era qui che l'ergastolano si nascondeva Dallo scorso settembre Quando non era più rientrato nel carcere di Secondigliano Dopo tre giorni di permesso premio Nell'abitazione sono stati trovati Documenti intestati ad un catanese residente a San Berillo Non era facile scovarlo Il boss si è anche complimentato con i poliziotti Riteniamo che non appena si è reso irreperibile Non rientrando dopo un permesso premio al carcere di Secondigliano Si è andato direttamente lì Però riteniamo di avere prova delle sue sortite a Catania Che erano brevi ma fugaci Possibile che in questi spostamenti Ha cercato comunque di riprendere le redini del gruppo? Questo è un aspetto che dobbiamo approfondire Certo è che l'uscita di un personaggio così importante potrebbe aver avuto anche questa funzione Concetto Bonaccorsi Ha scritto le pagine criminali più intense di Cosa Nostra Catanese E le sue azioni delittuose sono finite nei fascicoli delle procure di Milano e Torino Protagonista della guerra di mafia degli anni 90 È stato condannato per associazione mafiosa Omicidi, distruzione di cadaveri, armi e droga Le soccurricum Anche l'uccisione di Angelo Barbera Capo dei Cursoti Ed il duplice omicidio di due giovani I cui corpi furono gettati in una discarica Solo per vendicare il furto di un'auto Ora pare volesse riorganizzare il gruppo Riprendersi il suo ruolo Ma l'indagine della squadra mobile di Catania in questi mesi E la collaborazione nel blitz con la questura di Pistoia Hanno messo fine al disegno Un personaggio di grandissima carattura criminale Soprattutto è la dimostrazione ancora una volta Di come un gioco di squadra Un gioco di rete Coordinato da due procure Da due questure Possa essere vincente In un mondo in cui la criminalità Invece si organizza sempre Ed è sempre coesa E ancora sangue Cambiamo argomento Tra due auto qui sulla strada provinciale 55 All'altezza della Bretella Che conduce a Bicocca Un morto inferito Nell'impatto tra una Fiat Punto Guidato dalla vittima E una Ford Focus Il cui conducente è stato soccorso All'ospedale Vittorio Emanuele Le sue condizioni non sarebbero gravi Sul posto per i rilievi La polizia municipale di Catania Che adesso lavora L'esatta dinamica dell'evento Tragico per accertarne le cause Si è reso necessario Anche l'intervento di una squadra Vigili del fuoco Prestrarre il corpo Del giovane deceduto Dalle lamiere E adesso cambiamo argomento La pagina politica Si avvicina la scadenza elettorale Per il rinnovo del governo regionale Le elezioni previste Nella prossima autunno Tanti potrebbero essere gli aspiranti Che attualmente fanno parte Dell'amministrazione comunale di Catania Vediamo Potrebbe allargarsi notevolmente Il fronte di quanti Ambiscono una poltrona In occasione delle prossime elezioni regionali In autunno Addirittura lo stesso primo cittadino di Catania Enzo Bianco Potrebbe concorrere per la poltrona Di governatore siciliano In questo caso dovrebbe dimettersi Entro dieci giorni Dalla data di pubblicazione Del decreto di indizione Dei comizi elettorali E cioè orientativamente Entro il prossimo primo maggio Intanto però Altre componenti Dell'amministrazione catanese Potrebbero convergere Verso una candidatura a Palermo A cominciare dalla vice sindaco Marco Consoli Per continuare con l'attuale assessora Welfare Angelo Villari Da più parti infatti L'ex segretario della CGL cittadina È dato in lizza per un posto all'Ars Da non escludere anche che poi Altri consiglieri comunali Potrebbero avere la stessa ambizione E tra queste anche Il presidente del consiglio Francesca Raciti Che al di là dell'Ars Potrebbe però anche avere Delle altre mire Per esempio in ambito nazionale Potrebbe optare per l'assemblea regionale siciliana E qui le conferme sono maggiori L'attuale assessore a lavori pubblici Della comune di Catania Luigi Bosco L'ex presidente dell'ordine degli ingegneri È ancora in giunta nonostante la scomparsa in aula Del gruppo che fa riferimento Al presidente della regione Crocetta Ma le ipotesi non finiscono qui Insomma alla fine Le varie candidature possibili all'Ars Potrebbero in un modo o nell'altro Modificare in varie componenti L'attuale assetto amministrativo Del comune di Catania Cambiamo ancora argomento Il Codacons ha presentato un esposto Alla procura della Repubblica di Catania Chiedendo di aprire un'indagine Sull'autostrada A18 Che collega Messina con Catania Nei giorni scorsi Il cavalcavia autostradale Ubicato all'altezza di San Giovanni La Punta Da quella cavalcavia Sarebbero crollati dei calcinacci Sulla strada sottostante La situazione sull'autostrada Può rappresentare un serissimo rischio Per l'incolumità dei passanti Sia del cavalcavia Che della strada sottostante Per la caduta dei calcinacci Che si staccherebbero precipitando giù Scrive in una nota il Codacons La manutenzione delle strade e autostrade Rappresenta un dovere Un compito e un potere Degli enti proprietari delle strade Così come previsto Allo stesso codice della strada All'articolo 14 Che obbliga gli stessi enti A garantire la sicurezza E la fluidità della circolazione Con la manutenzione E il controllo tecnico delle strade Delle loro pertinenze Di tutte le attrezzature Andiamo adesso a riposto Dove sono previste Importanti sanzioni Per chi sporca Vie e piazze cittadine Sentiamo per i particolari Daniele Cantarella A meno di un mese Dall'avvio della raccolta differenziata Nel comune di Riposto È già lotta dura Contro i trasgressori Alle tre sanzioni Elevate negli scorsi giorni In via Concordia Dalla Polizia Municipale Locale Alle prese con i controlli Sul territorio Si aggiungono le altre due Effettuate questa mattina Per abbandono di rifiuti In via Piave In via Libertà Il trend seguito dai trasgressori È quello dell'abbandono indiscriminato Di rifiuti domestici Impropri nei luoghi Dove in precedenza Si trovavano i cassonetti Un'abitudine quasi giornaliera Che aveva portato Alla nascita di sgradevoli Microdiscariche Su strade e marciapiedi In compagnia del comandante Della Polizia Municipale Matteo Cavallaro Questa mattina Abbiamo effettuato Un piccolo giro di ricognizione Mirato Nelle zone più colpite Dalla problematica Qui ci troviamo in via Concordia Ieri invasa Da rifiuti abusivi I cui responsabili Sono stati già identificati Dagli agenti Della Polizia Locale Non ancora risolto Del tutto il problema Invece In via Roma Nord Dove stamane È stato trovato Un nuovo sacchetto Contenente rifiuti indifferenziati I risultati Cominciano ad ottenersi Cioè rispetto a ieri Che c'era un cumulo Di rifiuti abbastanza alto Oggi abbiamo trovato Una sola busta Purtroppo Purtroppo Non è stata fatta La differenziata È stata lasciata In un posto Non previsto Io avrei voluto Che trovassimo trovato Dentro qualche indizio Qualcosa Qualche indirizio Che ci portasse Al trasgressore Ma mi sa Che stavolta Non ci siamo riusciti Ma non è detto Che prima o poi Non riusciamo E c'è da dire Che per questi piccoli rifiuti La sanzione Non è Grave O perlomeno Va da 25 a 155 euro E senza l'ordinanza 126 Però Se sono cumuli Di rifiuti Considerevoli O addirittura Si dovesse trattare Di rifiuti speciali Eternite O rifiuti spedere E allora In quel caso Si rischia la denuncia Perché si sta violando Legge penale Quindi è un reato I controlli Saranno sempre più serrati Ha affermato Il sindaco Enzo Caragliano Fermo nel suo obiettivo Di mandare avanti La battaglia Per la differenziata La prevenzione ci vuole Ci vuole perché Lo sforzo di tanti Non deve essere Vanificato Da questa Diciamo Incuranza De poco Quindi Io ringrazio La squadra Che abbiamo Saputo organizzare Proprio per questa prevenzione Che incomincia A dare i suoi frutti Sul territorio Così soffriremo di meno E avremo anche un ritorno Economicamente Per i miei concittadini Come si dice Uomo avvisato Mezzo salvato Qual è il suo avviso Che vuole lanciare? Che saremo inflessibili Non ci sarà Niente che ci possa Faire tornare indietro Perché l'obiettivo È quello di rendere Sembri più puliti E accoglienti La nostra riposta Oggi è venerdì santo Tappa fondamentale Di avvicinamento Alla Santa Pasqua Vediamo come viene vissuta La giornata odierna Ad Acireale Salvo Cotuli A conclusione Della settimana santa La riposizione Del corpo di Cristo Organizzata nelle chiese Di Acireale Ogni anno Richiama migliaia di fedeli Da tutto l'Inderlanda Cese In attesa Della partecipata Processione Del Cristo morto Di questa sera Il cui corteo Muoverà dalla basilica Di Santi Pietro e Paolo Alla presenza Del bescovo Della diocesi Monsignor Antonino Raspanti E dalle tante congregazioni Che affiancano E partecipano All'evento sacro Ogni chiesa O basilica Del territorio Ha allestito Il proprio sepolcro Personalizzato Con il contributo Della comunità parrocchiale A seconda A seconda delle proprie Antiche tradizioni Una nostra truppa Raccolto le immagini Più suggestive Realizzate nella chiesa Di San Domenico Sulla navata Laterale di sinistra Della cattedrale Nella basilica Dedicata ai Santi Pietro e Paolo E in quella di San Sebastiano Dove morte e resurrezione Del nostro Signore Gesù Cristo Non è solo un momento Di raccoglimento Ma anche motivo Di riflessione E preghiera Sono giorni In cui si vive Particolarmente Il mistero pasquale E proprio con il triduo sacro Che inizia con la messa In Gena Domini E si conclude Con la veglia di Pasqua Noi celebriamo Il cuore Il centro Di tutto l'anno liturgico E con l'altare La reposizione Mostra ai fedeli La grandezza Del dono inestimabile Di Gesù e Eucaristia Che si fa dono Ai fratelli Si fa pane Che sostiene Il cammino Ed è memoriale Della sua Pasqua Oggi poi Nell'azione liturgica Rivivremo il mistero Della crocifissione Della morte Così come nella processione Che conclude Questa giornata E domani Nel grande giorno Del silenzio Attenderemo L'evento Della risurrezione Che fa nuove Tutte le cose Ecco la gente Ancora una volta Ha partecipato E continua a partecipare Alle celebrazioni Si unisce Nella preghiera Nella mestizia Nella gioia A questi momenti celebrativi Grande successo Martedì scorso Per le manifestazioni teatrali Con le poesie I racconti E le musiche Della tradizione Rappresentati dall'attore Giovanni Calcagno E dal musicista Giuseppe Severini Mercoledì Mercoledì La commovente Rappresentazione teatralizzata Della via Crucis Con l'attrice Egle Doria Manifestazioni religiose Che si accostano Ad una ricca Offerta turistica E culturale Come la mostra pittorica Dedicata all'Etna E le sue spettacolari Colate laviche Curata dalla pittrice Irmelin Wolf E visitabile Sino a domani 15 aprile Nel museo della vita In via Mazzini Grande chiusura Domenica Giorno di Pasqua Con lo spettacolo teatrale Nel nome di Maria Alle ore 20 All'interno Della Chiesa Madre Concluderemo Con un altro bellissimo Spettacolo Domenica sera Si sarà Nella nostra Chiesa Madre E saluteremo Un nostro concittadino Che Monsignore Giombanco Che il 20 aprile Prossimo avventura Verrà nominato Vescovo La diocesi Di Patti Per Piedimonte E' veramente Un momento storico Perché mai Un piedimontese Era arrivato A ricoprire Una carica Così importante All'interno Della Chiesa E quindi Sarà un momento Di festa A 360 gradi Sicuramente E' stato importante Il sostegno Dell'assessorato Regionale Al turismo L'onorevole Anthony Barbagallo Che ha deciso Di valorizzare Anche a fine turistici Il momento Pasquale Perché è un momento Nel quale Le singole collettività Vivono Dei momenti Di straordinaria Partecipazione E che possono Costituire Occasione Per i turisti Di conoscere Quello che In realtà La Sicilia E' più profonda E quindi Con questa aiuta Abbiamo deciso Di mettere Su questo cartello Che ci sta dando Grandi soddisfazioni A proposito Di cultura E turismo Anche una mostra Dedicata all'Etna Questo grandissimo Patrimonio Ai piedi Del quale Abbiamo la fortuna Di vivere Cerchiamo di metterlo Sempre al centro Delle nostre Iniziative Perché è un brand Che attira A livello mondiale Migliaia di turisti Dobbiamo essere bravi Ad ospitarli Adeguatamente Per farli Ritornare Nella nostra Meravigliosa Terra Ancora da Cireale Dove stamattina Il sindaco Barbagallo Ha incontrato I lavoratori Dell'IPAB Per il tradizionale Scambio d'auguri Pasquali In occasione Delle celebrazioni Pasquali Il pensiero Del sindaco Di Cireale Roberto Barbagallo E' rivolto Principalmente Ai dipendenti Dell'IPAB Oasi Cristo Re In arretrato Di 32 mensilità E in attesa Di conoscere Il loro destino Occupazionale Reso ancora più incerto Dalla mancanza Di fondi E dall'assenza Di una legge Di riordino Delle IPAB Annunciata Portata a compimento Dal legislatore regionale Nonostante programmi Alternati a promesse La speranza è legata Ad un emendamento In discussione All'Arsa Dopopasqua Su cui lo stesso Primo cittadino Impegnato Anche sul fronte Paralermitano Nella difficile vertenza Nutre dubbi E perplessità Gli emendamenti Bisogna Come dire Verificarli Dal punto di vista Tecnico Dal punto di vista Contabile Dal punto di vista Della possibilità Giuridica Di dare dei soldi Alle IPAB Così a pioggia Io ho letto Solamente così Il testo Bisogna comunque Approfondire giuridicamente Se è possibile Attuarlo O meno Certo Sicuramente Se ci fossero Le condizioni Ripeto Giuridiche Perché Non è detto Che la regione siciliana Improvvisamente Si svegli Senza una norma Senza una legge Di 8 milioni di euro Alle IPAB Piuttosto che ai teatri Piuttosto che ad un altro Ente che si trova in difficoltà Se ci fossero le condizioni Giuridiche E economiche Chiaramente Inviterei la regione Ad approvarlo Assolutamente Però ripeto Tecnicamente In questo momento Sbaglierei a dire Bisogna Come dire Valutarlo Anche giuridicamente La condivisione di alcune colombe pasquale Di qualche uovo di cioccolato Offerti dal sindaco Ai figli dei dipendenti Rappresenta la vicinanza Dell'istituzione comunale I 50 operatori IPAB Dal presente nebuloso E dal futuro Piuttosto incerto Siamo una Pasqua molto infelice Molto infelice Perché purtroppo La stiamo passando Peggio di Natale Perché non abbiamo preso Neanche un centesimo Come stipendi Neanche come acconti Quindi Sfido Non avendo Fondi Come si può passare Una Pasqua in famiglia Non ci sono altri aggiornamenti Seguite qui questo appuntamento Con l'informazione Che potrete seguire tra poco Sul sito ReTV.it Sulla nostra pagina Facebook Come di consueto Vi lascio adesso Alle previsioni meteo È tutto Grazie per averci seguito Buon pomeriggio Non ci sono altri aggiornamenti Si chiude qui questo spazio Con l'informazione Che potrete seguire tra poco Sul nostro sito ReTV.it Sulla nostra pagina Facebook Vi lascio come di consueto Alle previsioni meteo È tutto Grazie per averci seguito Arrivederci Il meteo È offerto da Il Centro Analisi SAEM Del Dottor Antonino Di Carlo Ora è nei nuovi accoglienti locali Di Via Marchese di San Giuliano 21 Aci Reale Vicino la Biblioteca Zelantea Centro Analisi SAEM Del Dottor Antonino Di Carlo Apertura Laboratorio Prelievi Tutti i giorni Dalle ore 6 Incluso il sabato Centro Analisi SAEM Via Marchese di San Giuliano 21 Aci Reale Per info 095 60 48 83 Le previsioni meteo Di sabato 15 aprile 2017 Su tutta la Sicilia Splenderà il sole Bel tempo Ovunque i mari saranno calmi Le temperature previste Tra minime e massime Oscilleranno nella Catanese Tra una minima di 13 E una massima di 25 gradi Il meteo È offerto da Il Centro Analisi SAEM Del Dottor Antonino Di Carlo Ora è nei nuovi accoglienti locali Di Via Marchese di San Giuliano 21 Aci Reale Vicino la Biblioteca Zelantea Centro Analisi SAEM Del Dottor Antonino Di Carlo Apertura Laboratorio Prelievi Tutti i giorni Dalle ore 6 Incluso il sabato Centro Analisi SAEM Via Marchese di San Giuliano 21 Aci Reale Per info 095 60 48 83 Grazie a tutti i giorni Abbiamo un'altra E Irrata Grazie a tutti i giorni